oggi mi sembra che sia stato arrestato a Pettaci racconto un aneddoto, un giorno è entrato nello spogliatoio la Sparilunita si viene entrato anche un foglio così e dice qui ci sono 100 milioni di euro per pagare tutti i debiti di vostri stipendi noi diciamo guardate e vedete che è finita è finita così c'è da questo foglio adoratore che mi diceva questo è un foglio, si scrive 100 milioni di euro grazie che devo far vedere che ho in conto con me io poi fanno 300 milioni di euro ma aveva il stesso valore di quei soldi che si aveva una niente allora chiamiamo Amina Rotelli qua dietro che si deve fare per la sigla finale la nostra è qua che finiamo tutti insieme anzi io chiamerei anche gli altri tifosi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti